Non trovano pace i cimiteri del comprensorio aquilano a oltre sette anni dal sisma del 2009. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per lo stato di abbandono di alcuni locali del cimitero dell'Aquila ancora disseminati di macerie, come documentato dalle nostre immagini, la scorsa settimana i NAS di Pescara hanno posto sotto sequestro due locali del cimitero di Roio, frazione dell'Aquila. Si tratta in particolare del vecchio e del nuovo ossario. L'ispezione è stata effettuata a seguito di una segnalazione giunta direttamente alle forze dell'ordine e non al comune, come ha voluto precisare la dirigente comunale alla tutela ambientale, Paola Giuliani. In questi giorni gli uffici di competenza stanno provvedendo a fornire la documentazione dei due stabili ai NAS, poi si provvederà all'eventuale dichiarazione di inagibilità e agli interventi di messa a norma o di ricostruzione. Fatto sta che la situazione del cimitero di Roio, a contorno dello stato attuale in cui versa quello della città dell'Aquila, conferma ancora una volta la totale trascuratezza in cui versano i cimiteri aquilani nel dopo terremoto.